Musica Cari amici e te vignole da diversi dizzi, ma il giornale iscrive del resto argentina, di Arco, insomma dei casini che è per quei che ha fatto, per che ha fatto, su denora il castello di Arco e che adesso deve tornare avvocato per venire fuori, fatto sta che gli assicci là qualche sito, bloccando il garage, insomma una bella rogna, che dirvi, noi a sto punto stiamo a guardare, però non possiamo fare, come dire, zitto, insomma non volerese noi a vignole, che con tutti questi gazzeri, blocchese un progetto che noi come Repubblica Foresta abbiamo presentato come un del Arco già mai da vent'anni, ora è un progetto fa da architetti venuti da fuori, eh, da Zosra tutto, quando è che vai da Castel Principe, insomma per dire dove dei castelli ne sa qualcosa. Si tratteva, e si tratta ancora di droppare al meglio le spianae del Castel, e dove i noghelli e le spianae le tirano via, i sgrebeni, batteria, piante che le edemmo secche, e anche tocchi di prea, insomma, che magari, mezzo, che tra il calto e il freddo, insomma, crea dei pericoli, anche qui che rampega. Sto progetto, e gabbo a suo tempo, perché questo bisogna dirlo, tutte le autorizzazioni, per dire anche da Bruxelles, no? E in poche parole, se tratteria, dopo aver fatto un par di spianae con la ruspa, con la pacchera, devi mettere su dei prefabbricati. Ecco, una pizza cinepresa che fai vedere le foto che hai messo dal computer, sì. Ecco, allora, come vedete, che ne è di diversi tipi, anche di diversi materiali, di tutti i colori, che hanno una vasta gamba, no? Una vasta gamba di colori. A cosa servono i stili prefabbricati? Beh, avrebbero visto perché succede quando piove, no? Che le sfilate del Carnevale le sposta, le sposta piove ancora, e poi piove ancora, e io ho il porco, bisogna lasciar stare lì tutto, mesi, mesi di lavoro, per niente. Non si può dipendere sempre dal tempo. Stili prefabbricati, gli serve anche per quelli che fa concerti, mostri, ristoranti, tullane, che piova, che fiocca, manca se le massacali, perché si mette dentro i condizionatori di stano. Allora, questo è il codo. Non le rese, che per quelli che vengono fuori da sotto, ne blocchono quelli che vogliono fare danni da sola, o per il bene e altro. E che dire? Sorsina Pobetta, e glielo dico anche a lui, a quei sola de lui, che le carte le ha posto, che dopo vengono fuori più belle, anzi di prima. veramente. Che non lo potevano tenere fermo il cartello e i nostri fornitori. È anni che non avevano promesso di fare queste cose, insomma, adesso che non vengono fuori, non vengono fuori mai. Saluto. 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 Ok, tenuto, complete. Grazie a tutti